Lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. C'è un movimento lì a bordo campo e dunque cambia un errore. Ibraimovic scende in campo con la ferma intenzione di conquistare i suoi nuovi tifosi e ritagliarsi un posto da titolare nella nuova squadra. Questa è la sua grande occasione per mettersi in mostra e convincere i tifosi, ma soprattutto l'allenatore, che questa sia la scelta giusta. Ibraimovic! Fantastico gol! Un gol incredibile! Una giocata perfetta! Ed ecco il gol partita! Un'esecuzione perfetta! Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo.